Ciao, sono Patrizia, una mamma con una figlia di 16 anni. Sono venuta qui molto volentieri perché è un altro mondo questo. Volevo portare mia figlia a far vedere come si cresce nel mondo dell'adolescenza e sono veramente felice che mia figlia è venuta e gli è piaciuto. Mi sto portando a casa tante di quelle informazioni che vorrei trasmettere anche lei. È un bel corso, sto pensando di portarla anche in Olanda perché è una figata come si dice. Mi è venuta veramente una grande emozione partecipare qua, veramente bello, mi è piaciuto.